leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto chi è stato a torino non ha potuto non collegare l'atmosfera magica che la circonda e la permia in ogni strada in ogni palazzo la città che guardata con attenzione rivela particolari inquietanti e tra questi si può annoverare la porta dell'inferno piazza statuto già nelle antiche credenze esoteriche si contrapponeva piazza castello che era considerata nella torino magica il simbolo della luce e delle forze positive secondo queste leggende all'interno della piazza probabilmente nel sottosuolo si troverebbe la porta dell'inferno data la sua posizione allineata al 45esimo parallelo fungerebbe da vertice a due triangoli della magia uno bianco che comprende torino lione e praga e uno nero con londra e san francisco gli esperti di esoterismo localizzerebbero il vertice di questi triangoli proprio in piazza statuto l'origine di queste credenze risale all'epoca romana si racconta che l'esercito di roma avesse costruito in questo luogo un castrum un accampamento con al centro un vallis hocissorum un patibolo usato per l'esecuzione dei condannati a morte come testimonia l'antica necropoli ritrovata sotto la piazza durante gli scavi per la costruzione della ferrovia una città dei morti che non ha smesso di rivestire una valenza oscura nemmeno ai giorni nostri dato che sotto il laghetto alla base del monumento nel centro della piazza si trova l'impianto centrale della cloaca che fin dall'antichità sono state considerate le bocche dell'inferno per cui la porta dell'inferno si troverebbe nel sottosuolo di piazza statuto probabilmente in uno dei tombini che spiccano dal manto stradale il cuore nero di torino ospita forti simboli esoterici che gli esperti attribuiscono alle forze oscure in particolare il monumento del fregius costruito dall'ingegnere german sommelier come omaggio ai minatori caduti durante i lavori del traforo che emanerebbe un forte potere oscuro l'impotente monumento al centro della piazza statuto fu eretto nel 1879 ed è costituito da una piramide fatta con le pietre di risulta dello scavo del traforo con sulla cima una figura maschile alata che con la mano destra tiene una piuma e con la sinistra sembra voler tener lontano qualcuno il monumento oltre che essere un tributo ai minatori è anche l'allegoria del trionfo della ragione sulla forza bruta dato che il genio alato che domina dall'alto sembra difendersi da creature probabilmente titani che cercano di arrempicarsi sulla piramide gli amanti del mistero forniscono però un'interpretazione completamente diversa l'angelo che si trova sulla cima del monumento non sarebbe altri che lucifero l'angelo portatore di luce che fu cacciato da dio e condannato a precipitare nella materia secondo questa interpretazione lucifero guiderebbe le forze dell'oscurità guardando con aria di sfida verso l'oriente luogo dove sorge il sole ovvero la luce in altre parole le forze del bene c'è un dibattito ancora aperto anche sulla stella cinque punte posta sulla testa dell'angelo secondo un'interpretazione il simbolo rappresenta il microcosmo ed il macrocosmo e i cinque elementi aria acqua terra fuoco e spirito al contrario secondo gli amanti dell'esoterismo il pentacolo rappresenta l'anticristo questo dibattito è destinato a durare poiché nel 2013 il simbolo è sparito nel nulla forse a causa del maltempo forse per un atto vandalico sia come sia questa piazza contribuisce effettivamente ad accrescere la fama della cosiddetta torino magica una città dove si concentrano le forze del bene e del male